Ed ora un altro annuncio riguardante la, come vedete, sempre ricca anche in estate, produzione televisiva di Rete 8. Da lunedì 3 luglio torna sul canale 10 del Digitale Terrestre la rubrica Buongiorno Fitness. Dieci minuti di salute quotidiana in compagnia di esperti delle scienze motorie e dell'alimentazione. La trasmissione condotta da Mila Cantagallo con la parte tecnica curata da Alberto Capo propone ogni giorno un allenamento che i telespettatori possono svolgere da casa in compagnia degli istruttori della palestra Le Dune Fitness di Silvi Marina e consigli su una corretta nutrizione in collaborazione con la dottoressa Anna Vecerec, biologa specializzata in scienze dell'alimentazione degli esercenti del complesso residenziale Le Dune di Silvi Marina. Una volta a settimana Buongiorno Fitness si trasforma in Buongiorno VIP con un workout a sorpresa insieme a un personaggio noto al pubblico. Ogni venerdì invece è prevista una rubrica sulla moda mare estate. L'appuntamento con Buongiorno Fitness è su Rete 8 dal lunedì al sabato alle 7.50, 8.50, subito dopo la rassegna stampa e anche in replica alle ore 13.